Musica Buongiorno, nuovo appuntamento di Campania. Oggi parliamo un'altra volta, purtroppo, di quello che accade nell'area nord in provincia di Napoli, ma in tutta la regione Campania appena piove. Saranno queste nuove piogge con quantità d'acqua molto più consistenti rispetto al passato? Sarà che purtroppo le nostre strade ormai non reggono più, ma soprattutto non reggono più le nostre fogne? Sarà che non vengono pulite a dovere le catitoie? Ma quel che è certo è che ogni volta che un cittadino napoletano vede una giornata di pioggia come questa, sa bene che dovrà armarsi di santa pazienza perché le strade saranno impraticabili, il traffico sarà impazzito e soprattutto c'è un reale rischio per le persone. Perché io vi faccio vedere una foto di quello che è accaduto a Villaricca, tra l'altro ci collegheremo in diretta proprio con Gaetano Pradiolica in quella zona fra poco, ma guardate questa foto dei carabinieri, Coraggio, i carabinieri della stazione di Villaricca hanno salvato letteralmente una donna che rischiava di annegare la sua autovettura. Siamo nella zona di Candida, per chi è pratico dell'area nord, per chi è pratico di Qualiano, questa da un punto di vista tecnico dovrebbe essere Villaricca, ma siamo in una zona tra Qualiano e Villaricca, la cosiddetta via Corigliano, detta anche via di Candida perché lì c'è questo negozio molto famoso di abbigliamento che dà il nome a questa strada. E vedete da questa immagine appunto che se non intervenivano i mezzi dei carabinieri e materialmente salvavano questa persona, questa persona rischiava l'annegamento. Marco, ma non è l'unica situazione di disagio di oggi? No, è l'unica situazione di disagio, innanzitutto facciamo il nome anche del maresciallo Eroe, del comandante di stazione che ha tratto in salvo quella donna, si tratta del maresciallo Salvatore Salvati e del suo vice. No, purtroppo non è l'unica situazione di disagio. A Napoli è stata temporaneamente chiusa la stazione metro di Piazza Garibaldi, disagio anche alla Circumo Vesuviana, è stata chiusa la stazione di Scafati ed è stato sospeso anche il servizio tram a Napoli, a comunicarlo l'ANM. Poi ovviamente allagamenti, fiumi in piena in diversi comuni dell'Interland napoletano. Guardiamoli, guardiamoli un po' insieme. Allora dovremmo avere quarto delle immagini che arrivano da quarto, che sono abbastanza eloquenti. Guardate qui, questo è quarto. L'acqua ha completamente invaso la strada. Quarto, Cittadina Flegrea, completamente sott'acqua questa mattina. Andiamo avanti, se riusciamo anche a titolare, regia le immagini. Dovremmo avere Torre del Greco. Dovremmo avere delle immagini di Torre del Greco. Anche qui una situazione davvero complessa per gli automobilisti. Guardate i tombini come sono saltati. E poi ancora una serie di carrellata, una serie di immagini, perdonatemi, di Giuliano. Dovremmo avere via Santa Caterina da Siena questa mattina con un vero e proprio fiume in piena. Dovremmo essere sì questa via Santa Caterina da Siena. Guardate qui che cosa è successo. Un vero e proprio fiume in piena via Santa Caterina. Ma proprio con via Santa Caterina ci colleghiamo in diretta. C'è lì per noi Francesco Mennillo. Francesco, com'è la situazione adesso in via Santa Caterina? Sì, direttore, grazie per la linea. Chiedo scusa per il cappuccio, ma qui continuo a pioviginare. La situazione è molto, molto più tranquilla rispetto a quella che è stata una mattinata veramente drammatica al punto che vedete queste reti di messa in sicurezza di questa strada che conosciamo bene perché crollò, un tratto crollò nel 2018. Quella rete della messa in sicurezza ha trattenuto addirittura dei detriti appunto nel corso d'acqua che è diventato un vero e proprio fiume, lo facevi vedere ben tu nelle immagini appunto. Ed è una strada che questa mattina ha tornato a far parlare di sé dopo mesi di silenzio perché si è aperto un tombino e si è creata una crepa in parte in un segmento della strada. Ma questa zona è stata anche oggetto di un altro fiume, anzi diremo di un lago ovvero quello di via Bartololongo, praticamente la strada parallela a via Santa Caterina dove ci sono tre plessi scolastici, il Minzoni, la Di Giacomo, la Gramsci Impastato dove questa mattina i genitori accompagnando i alunni, i bambini, i ragazzi a scuola hanno veramente dovuto attraversare un fiume d'acqua. Allora, se la regia ce lo fa vedere dovremmo avere proprio il video di via Bartololongo dove ci sono varie scuole perché c'è sia il Minzoni che una secondaria ma poi c'è anche un comprensivo perciò accoglie una platea scolastica importante abbiamo il video, eccolo, guardate qui che cosa succede cioè per accompagnare un proprio figlio a scuola che cosa si deve fare? si deve arrivare con la zattera in poche parole, con una barca perché è davvero impossibile purtroppo questa situazione anche noi di Teleclay Binale l'abbiamo denunciata più e più volte ed è una situazione completamente ingestibile. Allora Francesco, io ti lascio per ora, se tu riesci a intercettare qualche residente della zona per farci capire anche in che condizioni stanno vivendo, quale paura hanno nel vivere in una strada che è ormai chiusa da anni e che soprattutto ogni volta che piove si trasforma di fatto in un fiume. Ci spostiamo in fascia costiera, ho mandato alla regia proprio da poco dei video che mi state inviando vi ringrazio i tantissimi telespettatori che ci stanno seguendo, mi stanno inondando di video di quello che è successo questa mattina e dovremmo avere sia dei video di via Garrafiello che di via Gelsi e anche lì la situazione è pressoché identica insomma le persone per poter uscire di casa devono munirsi di grande coraggio, grande pazienza e mettere a rischio non solo la propria incolumità ma anche quella delle proprie autovetture perché diventa davvero complicato riuscire ad uscire di casa. Questo dovrebbe essere tra via Garrafiello e via Gelsi dove appunto ci sono anche delle strutture scolastiche e guardate che cosa succede, qual è la situazione che si è venuta a creare questa mattina davvero una situazione difficile con le strade che si trasformano in fiumi in piena è una situazione questa Marco che ormai raccontiamo da tempo No, questa della fascia costiera è una situazione cronica che ovviamente sconta la fascia costiera per il litorale giulianese, per la carenza di infrastrutture, l'assenza di servizi sappiamo che in quasi tutte le strade delle frazioni giulianesi del litorale mancano le fogne e puntualmente le arterie stradali si trasformano in veri e propri fiumi in piena c'è stato purtroppo Giovanni, non in provincia di Napoli ma in provincia di Avellino anche un incidente mortale, un settantenne a Forino nell'Avellinese è uscito di casa sotto la pioggia abbattente ed è stato travolto e investito da un autocarro sarebbe morto sul colpo per le gravi ferite riportate nell'impatto Allora, io chiedo alla regia di farmi vedere una foto che gli ho segnalato adesso nella nostra bassa frequenza perché questo è un caso abbastanza importante la strada che stiamo per vedere in questa foto è via Marchesella è importante perché Marco ricorderai che i residenti di via Marchesella si sono opposti al rifacimento del manto stradale senza intervenire sulle fogne dicendo guardate è inutile che fate il manto stradale, state buttando i soldi, dovete fare le fogne perché il nostro problema qui, oltre alla strada dissestata, è il fatto che la strada non si allaga il Consiglio Comunale Giuliano, in particolare la Commissione dei Lavori Pubblici si è recata sul posto e ha anche provveduto a far pulire le caditoie per cercare di prevenire in parte il fenomeno però purtroppo oggi questa foto che ci manda un lettore ci testimonia che purtroppo in via Marchesella la situazione resta uguale a come era prima La situazione resta uguale a come era prima perché ovviamente pochi giorni fa anche i residenti hanno chiesto di intervenire sulle condotte fognarie, sul rifacimento quindi delle fogne di un tratto stradale che è da sempre oggetto di allagamenti e in questo caso dovremmo poi capire Questa è via Marchesella, perdonatemi, quella di prima era via Frezza, ho sbagliato la toponomastica però questa è via Marchesella e la situazione è pressoché identica Poi Giovanni, ovviamente queste piogge consistenti rischiano anche di vanificare i lavori che sono stati fatti dal comune di Giuliano perché piogge così intense potrebbero poi di fatto distruggere e indebolire di nuovo il manto stradale che è stato rifatto in queste settimane altri soldi pubblici che sono poi sperperati e questa è una cosa da segnalare Addirittura ci segnala Vincenzo Risso, attivista della fascia costiera, animatore del gruppo Parcaturo Ligola Lago Patria che fuori la Don Vitale ci sono delle mamme che sono bloccate, che non si riescono a muovere Allora noi ci colleghiamo con Gaetano Pragliola che invece è in zona via di candida per capire cosa è successo stamattina e qual è la situazione in quella zona Te la linea Gaetano Buongiorno a tutti voi, anche noi abbiamo provato a raggiungere il posto ma siamo stati praticamente costretti a fermarci prima perché come potrete vedere dalle immagini che ho inviato anche in regia la situazione qui resta molto complessa come dicevi tu Giovanni è una delle zone più attenzionate da tempo la cosiddetta strada di candida via Corigliano o via Roma siamo tra due comuni tra Villaricca e Qualiano ne abbiamo parlato anche noi, anche la nostra redazione con innumerevoli servizi di denuncia per il grave dissesto stradale che si vive in quella zona con buche voragini dovute proprio a questo ovvero una carenza del sistema fognario che non riesce a reggere proprio quel punto questa mattina intorno alle 9 una zona di 47 anni era rimasta intrappolata in auto con l'acqua che era arrivata praticamente fino al finestrino sono immediatamente giunti per fortuna i carabinieri della stazione di Villaricca il comandante di stazione, il maresciallo Salvati che insieme a un suo collaboratore, insieme ad un altro militare sono entrati in acqua e sono riusciti a trarre in salvo questa donna tanta paura però fortunatamente tutti stanno bene e proprio adesso mentre siamo recati sul posto quantomeno abbiamo provato a raggiungere il posto un altro furgone era rimasto bloccato praticamente per l'acqua alta ed è stato necessario l'intervento di un carattressi per tirare su questo veicolo questa è una zona molto particolare vi dicevo anche per la conformazione perché c'è una piccola vallata dove confluiscono anche tutte le acque che arrivano dall'albio dei Camaldoli quella è una zona di passaggio tanto è vero che poi si collega col ponte di Surriento e inizia via Ripuaria dei Camaldoli dunque una zona dove davvero arriva tanta acqua e quindi con questi forti temporali la situazione resta molto critica anche dal lato del ponte di Surriento la strada è stata parzialmente interdetta con un po' di nastro, con dei New Jersey di plastica ma molti la continuano ad attraversare dunque restano dei forti rischi e resta anche la rabbia dei residenti che più volte avevano segnalato la pericolosità di questa zona che però meriterebbe sicuramente un intervento strutturale importante per provare a prevenire ed evitare situazioni pericolose come quella di stamattina e quella che ancora persiste noi ovviamente ne parleremo anche nel nostro telegiornale con un collegamento proprio dal posto ormai questa situazione delle strade che tra l'altro, parliamoci chiaro Marco sono sempre le stesse cioè noi ormai siamo i primi che sappiamo che quando piove dobbiamo andare tra via Santa Caterina, via Bartolo Longo via Cirigliano, via Garrafiello, via Madonna del Pantano insomma ci sono arterie importanti dell'area nord perché poi non accade solo a Giuliano dovremmo avere anche un video di Frattaminure abbiamo visto quello che è successo a Torre del Greco sta succedendo a Sapri dove si è allagata completamente tutta la città insomma è un problema campano, serio non solo dell'area nord ma ormai di tutta la regione io credo che sia un problema italiano Giovanni allora se il problema è diventato cronico negli ultimi 10-15 anni anche per i cambiamenti climatici che di fatto si registrano negli ultimi decenni mi chiedo perché anche il governo oltre agli enti locali non interviene strutturalmente sul problema allora Marco ti interrompo perché abbiamo in collegamento in diretto un gruppo di mamme che sono fuori la scuola Don Vitale e sono bloccate dalla pioggia ci raccontate che sta succedendo mamme fuori la Don Vitale? praticamente ci vuole il canotto con dei remi per poter passare questa strada siamo qui fuori scuola e adesso non sappiamo come tornare a casa perché c'è acqua ovunque copre le macchine e non riusciamo più a tornare a casa ci potete far vedere la situazione dell'allagamento che sta succedendo oltre diciamo dove siete posizionate voi adesso no siamo passate praticamente e abbiamo chiamato anche i vigili ma i vigili hanno detto che non possono fare niente l'acqua non la possono aspirare e per il momento siamo qui fuori scuola spettando i bambini però non sappiamo più come tornare a casa quante siete di mamme bloccate lì fuori scuola? tutta la scuola però adesso qui siamo dieci mamme cioè tutta la scuola non riesce ad andare a casa perché è bloccata dalla pioggia alla Don Vitale è bloccata dalla pioggia è bloccata da un allagamento praticamente c'è un sombino che caccia acqua a morire e impedisce la... questa situazione e tutte le volte che piove noi abbiamo problemi va bene, allora ringraziamo le mamme della Don Vitale per questa testimonianza insomma Marco è davvero una situazione incredibile uno va a prendere il proprio figlio a scuola va lì per cercare di riportarlo a casa e rimane bloccato perché saltano i tombini e non si può uscire di casa di fronte ovviamente ad una situazione del genere le mamme hanno due opzioni o non mandano i figli a scuola oppure li mandano correndo i rischi assumendosi anche le responsabilità di quello che può accadere sia al momento dell'ingresso in classe sia al momento dell'uscita quello che sottolineavo prima è perché il governo e gli enti locali non pensano di varare una vera e propria manovra strutturale per cambiare le strade ad esempio Giovanni mi chiedo è fattibile anche costruire delle vasche di compensazione come quelle che esistono anche per i fiumi per contenere le masse d'acqua che si riversano sulle strade e sulle arterie stradali si può pensare a delle soluzioni di investimenti importanti tra l'altro sono state approvate anche ultimamente diciamo delle misure anche nelle amministrazioni locali per cercare di far fronte a tutto questo penso a Giuliano la zona di via Colonna in questo momento stanno proprio cercando di ampliare le fognature e la stessa cosa stanno facendo in via Appia proprio per cercare di prevenire questi problemi certo è che in una zona come quella della provincia di Napoli dove si è edificato e si è edificato in tutti i modi ci si doveva pensare prima prima di andare a coprire con il lacciamento gran parte del territorio noi ci fermiamo per pochissimi secondi io ti saluto Marco perché al tuo posto arriverà la collega Maria Rosaria Ferrara perché si collegherà con noi l'ex sindaco di Giuliano Antonio Poziello e con lui faremo un po' il punto della situazione politica nella terza città della Campania Dal 1910 le nostre carni sono scelte dai migliori punti vendita e dai più prestigiosi ristoranti perché da quattro generazioni nella nostra famiglia la carne non è un semplice prodotto ma una passione tramandata con cura selezioniamo i migliori pascoli e allevamenti italiani per offrire prodotti di alta qualità grazie ad un'organizzazione sempre all'avanguardia distribuiamo in tutta la campagna e siamo in grado di offrire soluzioni convenienti al basso con le nuove esigenze del mercato per i nostri clienti Gruppo Fontanella dal 1910 carni di alta qualità non è un'organizzazione di alta qualità non è un'organizzazione Union Security garantisce da sempre la tua sicurezza. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS e annunciò appunto questo azzeramento di giunta che avrebbe dovuto preannunciare un rimpasto che ad oggi ancora non c'è stato probabilmente il sindaco Nicola Pirozzi pensava di riuscire in tempi un po' più stretti a fare questo rimpasto a mettere d'accordo un po' tutte le varie forze politiche ma al momento così ancora non è stato nel mentre c'è da dire che ci sono state le dimissioni dell'assessore ai lavori pubblici che è Tano Coppola che è stata sicuramente una tegola per l'amministrazione Pirozzi perché insomma Coppola era sicuramente uno degli assessori di punta della giunta Pirozzi e sicuramente aveva in mano quelle che sono i dossier comunque le pratiche più importanti per l'amministrazione visto che parliamo insomma soprattutto dei lavori pubblici dunque al momento c'è una situazione un po' da una parte di stallo dall'altra di particolare fermento politico proprio in vista del rimpasto perché c'è chi chiede un'aggiunta che sia assolutamente tecnica e chi invece spinge per un'aggiunta del tutto politica Allora vediamo invece che opinione ha su quello che sta accadendo a Giuliano l'ex sindaco della città Antonio Pozziello Allora Pozziello abbiamo celebrato i due anni di amministrazione Pirozzi qual è il suo giudizio sul suo successore? È un giudizio che sicuramente non è positivo la mia sensazione è che la città sia in preda al disordine e ci sia una situazione marasmatica di abbandono dei cittadini e di mancato presidio di quelli che sono gli elementi essenziali per garantire la vivibilità dei cittadini c'è un'attenzione invece spasmodica agli incarichi, al sottogoverno al governo a quelle che sono pratiche spartitorie che fanno parte della politica quindi nessuno se ne scandalizza ma se si abdica dalla guida della città per preoccuparsi soltanto di chi deve guadagnare 30 mila, 40 mila, 50 mila 70 mila euro credo che questo sia un pessimo servigio reso alla città allora ha parlato lei della vicenda incarichi noi proprio su questo abbiamo sentito questa mattina il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia certamente fa specie la doppia morale di questa amministrazione nel special modo quella del sindaco Pierozzi il quale nella scorsa campagna elettorale ricordiamo parlava che addirittura Giuliano vigeva un sistema politico mafioso per quanto riguarda gli incarichi che venivano dati ai professionisti scambiava che a Giuliano si scambiavano quasi quasi le viste elettorali per i short list e quindi che affermava pubblicamente in piazza con noti esponenti del partito democratico che con la sua amministrazione tutto sarebbe cambiato e invece ci ritroviamo proprio di qualche giorno fa incarichi caduti a pioggia sui professionisti candidati nelle sue liste addirittura o comunque a lui molto vicini è quello che noi questo diciamo denunciamo non gli incarichi ai professionisti in sé per sé che possono essere anche stimabili e conosciuti assolutamente ma contestiamo il fatto di come pioci si ammanti di una doppia morale Poziello è d'accordo con Bifaro c'è stato spesso spesso sono d'accordo con Emanuele e Bifaro diciamo gli opposti ogni tanto si attracca non so se se chi dei due deve confessarsi insomma magari un po' per uno che poi non ci fa a me male è una confessione e quattro preghiere oggi io direi se facesse ancora il vostro mestiere io avrei un titolo da dare al 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 telegiornale oggi torna la paura a Santa Caterina ecco proprio su questo Poziello le faccio vedere un post che il sindaco fece non su Santa Caterina ma su un'altra vicenda legata a un sistema fognario appunto quello della zona di via Grotta dell'Olmo via Madonna del Pantano e in un passaggio del post il sindaco dice Giuliano vive una condizione di estremo degrado in tutti i settori e di questa situazione usciremo col tempo perché siamo veramente partiti dall'anno zero insomma tradotto in soldoni il sindaco dice io ho trovato una città allo sbando è ancora allo sbando ma la colpa è di quelli che sono venuti prima di me ma Nicola non ha mai colpe guardi io penso che in politica l'unico innocente che ci siamo è stato era mio padre perché era innocente all'anagrafe innocente e innocente Nicola Pirozzi è stato consigliere comunale per un periodo lunghissimo è stato consigliere metropolitano e sindaco da due anni che continui con sto giochetto io non c'entro io non c'ero e se c'ero dormivo insomma funziona fino a un certo punto che poi lui continua a dormire anche da sindaco è un'altra è un'altra storia ognuno di noi arriva eredita quando arriva a quel sindaco in una città complicata come quella di Giuliano dove i problemi sono atavici guai che arrivano dal passato però ci stanno due modi di affrontare le cose uno è quello che si mette e dice la colpa è di quello di prima e facciamo sempre sto giochetto con Nicola e il mio che era quello di sbracciarmi e provare a trovare delle soluzioni a Grotta dell'Olmo noi l'avevamo individuata la soluzione stavamo lavorando con la regione e con la società del depuratore per trovare una finalizzazione alle acque che oggi non riescono a essere raccolte e sollevate davanti alla scuola a Santa Caterina dopo quello che abbiamo fatto noi non è stato fatto niente io sono passato qualche ora fa di lì e ho visto poi quello che stanno facendo c'è un sifonamento sotto un tombino che era stato più volte segnalato in un punto che non era stato oggetto dei precedenti lavori è chiaro che se quando il cittadino ti segnala la perdita sotto al tombino in un'area critica tu intervieni eviti i problemi oggi io starei preoccupato a Santa Caterina perché là bisogna tenere uno stretto monitoraggio ma se dopo tre anni Poziello invece della vicenda a stadio lei che idea si è fatto il sindaco Pirozzi ieri in esclusiva a Teleclub Italia ha finalmente dato la notizia che sono partiti i lavori ha fatto un posto e ha parlato di tempi record lei che conosce la macchina comunale perché è stato sindaco si poteva fare prima si poteva fare meglio si poteva fare prima certo si poteva fare meglio sempre si poteva parlare di meno e lavorare più però la vicenda dello una vicenda notta noi quando arriviamo troviamo lo stadio e fummo anche sfortunati perché viviamo un periodo di piogge per cui i lavori faticavano ad andare avanti e al termine di cui avevamo immediatamente cominciamo a lavorare al prosieguo un sindaco che arriva e si impegna con la città e con una squadra che ha delle belleità di andare nelle sedie superiori è chiaro che deve parlare di meno fare meno annunci e lavorare lavorare di più io ho ascoltato una serie di cose tra l'altro anche alcuni messaggi che sono girati sulle chat sui soldi che doveva mettere la società su tempi ipotetici era chiaramente tutta una bolla di sapone come effettivamente è stato di fatto il Giuliano sta giocando da un'altra parte e c'è un sindaco che continua a dire che la colpa non è sua ma la colpa non è mai sua per definizione allora sindaco Pozillo ex sindaco Pozillo io non ho stima ho difficoltà ad avere stima per chi gioca scarica barile io preferisco quelli che ci mettono la faccia e lavorano in prima persona chi sta chiuso in una stanza per me Pozillo però diciamo uno dei grandi temi della città è quello del PUC pare che in giunta ci siano stati anche un po' di diverbi su come andare avanti da questo punto di vista e anche da parte dell'opposizione qualcuno ha gridato allo scandalo perché questo PUC non si sta portando avanti nella massima trasparenza lei che ne pensa? Io credo che questa amministrazione non conosca il termine della parola trasparenza e che stia disertando sia dal confronto pubblico sia dall'informazione e in qualche modo coinvolgimento della città ma anche delle forze consigliate tutti gli accessi agli atti le richieste di documenti che vengono fatti dalle opposizioni cadono nel vuoto i documenti non vengono mostrati e l'idea di poter definire il PUC tra quattro gatti e quindi senza un controllo senza un confronto e senza una partecipazione è qualcosa che per me è meritevole anche di altre attenzioni è qualcosa che mi fa sempre mal pensare nel frattempo tra due settimane festeggeremo due anni senza la sosta a pagamento nel comune di Giuliano anche lì questa amministrazione e anche i commissari per dire la verità puntare nel dito contro di lei dicendo che la gara non era vantaggiosa per il comune di Giuliano perciò era meglio fermarsi ma io su sto fatto che non fosse vantaggiosa non ho mai capito il perché anche anche perché se poi dopo guadagnare dieci è peggio che guadagnare zero io resto basito e probabilmente sarà la prima volta in vita mia che manderò le carte alla Corte dei Conti stiamo aspettando di capire come si chiudono i giudizi e tra i vari atti che ho chiesto e non ho mai avuto era il conto delle multe emesse e riscosse perché il problema per la mancata sosta a pagamento è triplice c'è una confusione in città che non consente una sosta ordinata e quindi danneggia in primis i commercianti in secondo luogo c'è il mancato gettito da quello che la riconosce al comune c'è un terzo problema che è quello delle multe che vengono erogate e irrorate risposte che in questo caso si è perso un gettito e poi volendo anche essere minimamente umani c'è un problema occupazionale che riguarda una serie di lavoratori che per la maggior parte provengono dai progetti LSU e che erano stati stabilizzati dall'amministrazione comunale mi pare fosse quella Castaldo all'epoca se non ricordo male o taglia la tela posso far confusione sulla garanzia del comune che avrebbero poi avuto un'occupazione stabile che è tutt'altro che stabile poi si è rivelata nel tempo parlavamo all'inizio di questa parte di campagna oggi del fatto che il sindaco ha annunciato a settembre l'azzeramento di giunta azzeramento che ancora non c'è stato e che insomma dovrebbe arrivare questo fatidico rimpasto rimpasto di giunta che insomma pare sia molto controverso perché c'è chi chiede una giunta tecnica chi chiede una giunta politica lei che idea si è fatto del lavoro della giunta sino a questo momento in questi primi due anni di amministrazione secondo lei insomma che cosa ci aspetta da questo rimpasto guardi io credo che peggio dell'attuale giunta ci sia ci sia ben poco insomma quindi anche se prendiamo dieci persone a caso per strada probabilmente lavoreranno meglio dell'attuale giunta alcuni sono assolutamente non pervenuti il ruolo il ruolo dell'amministrazione pirozico in questi due anni e non lo dico perché così è e nella percezione delle persone è stato assolutamente nulla il presidio delle questioni principali della città delle emergenze delle urgenze o dell'ordinaria amministrazione è stato abdicato abbiamo avuto assessori che entravano uscivano davano dimissioni e non si è mai capito perché si dimettessero ci sono una serie di dimissioni che meritavano trasparenza e che per i quali era necessario che il sindaco spiegasse perché questi assessori andavano via ad oggi non è dato l'ultima domanda dobbiamo chiudere siamo però a due anni e dobbiamo anche fare un bilancio sull'opposizione l'opposizione in questi primi due anni è sembrata un po' sbandata il centrodestra che ha avuto degli ammiccamenti col centrosinistra adesso diciamo pare che però sia su una posizione diversa un po' divisa al suo interno c'è per esempio Bifaro che è molto in opposizione a questa amministrazione altri un po' meno anche l'opposizione che fa riferimento a lei non esiste più di fatto la lista Pozziello Sindaco ci sono stati vari movimenti ma diciamo quel che sembra è che è vero che ognuno può esprimere il proprio giudizio su Pirozzi però dall'altro lato non c'è un'alternativa a Pirozzi al momento in città che non ci sia un'alternativa a Pirozzi la vedo una cosa fuori dal vero insomma ci sono molte alternative a Pirozzi non c'è in questo momento una lista Pozziello Pozziello Sindaco perché non c'è un Pozziello Sindaco quindi è evidente che quella era una lista che era finalizzata a quel momento e che come tutte le cose ha un'evoluzione sul centro-destra Pirozzi vince grazie all'accordo col centro-destra che ha avuto un regista nell'ex parlamentare Lello Topo ed è evidente che nel momento in cui la maggioranza ampia di cui godeva che era quella della sua maggioranza più di una parte di quella che solo sulla carta era opposizione nel momento in cui si rompe quest'asse è chiaro che Pirozzi comincia ad avere scricchioli anche perché ha una maggioranza variegata fatta di una serie di soggetti non sempre allineati allineabili e governabili e con una serie di movimenti interni di cui tutti noi siamo a conoscenza basta guardare di tanto in tanto Facebook dopo le 20 per renderci conto dei problemi che questa maggioranza ha che è una maggioranza fatta di più maggioranze se proprio vogliamo essere questa anomalia Italia vive in opposizione azione in maggioranza come la si risolve visto che Italia vive comunque è vicina questo lo facciamo rispondere alla prossima intervista perché sono purtroppo 13.43 dobbiamo andare alla telegiornale allora ringraziamo l'ex sindaco Antonio Poziello chissà sarà diciamo più presente nelle prossime settimane sullo scenario politico cittadino l'abbiamo visto un po' distratta negli ultimi mesi diciamo che trovavo la scena giuglianese un po' noiosa la ripetizione pedisse qua di vecchie scenografie sceneggiature una ripetizione un po' stanca di colpa di quello di prima io credo che il ruolo di una opposizione sia comunque quella di essere al servizio della città e finalizzata a cambiare meglio le cose con un'amministrazione che nasconde delle carte e che non le mostra manco i suoi e che è solo presa dal dare gli incarichi dateveli voi noi abbiamo altro da fare ci vediamo poi ringraziamo Antonio Poziello dobbiamo chiudere telegiornale in arrivo ancora tante notizie sugli allagamenti ma ci sono anche notizie di cronaca importanti una suora è stata arrestata perché maltrattava dei bambini a Ischia arresti importanti dal punto di vista dei narcos è stata sgominata una banda che faceva riferimento a Raffaele Imperiale ma poi tante altre cose ci collegheremo con Afragola dove c'è un festival del cinema e un problema alla mensa con Casoria dove il comune è stato sprattato dall'asile insomma un telegiornale ricchissimo restate con noi grazie Maria Rosario grazie a voi grazie a voi